Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo parlare con voi di un olio essenziale che non ho trattato fino adesso, non so perché, ma è fenomenale. Credetemi, quando aprite la bottiglia di un olio essenziale di limone potete respirare e avere il sole dentro, soprattutto quando non c'è fuori. Mi chiamo Manuela e restate sintonizzati se avete voglia di sapere e scoprire qualche cosa in più su quest'olio meraviglioso che è l'olio essenziale di limone. La mia azienda preferita, Toterra, ha scelto proprio l'Italia per produrre il sole essenziale di limone. Quest'olio viene estratto per pressione a freddo dalla scorza degli agrumi, appunto dei limoni in questo caso, e occorrono ben 3000 limoni per ottenere, per estrarre solo un litro di olio essenziale. Quest'olio può essere utilizzato per tutti e tre modi, come quando utilizziamo i nostri oli essenziali, quindi il metodo di impiego topico, quindi per utilizzarlo sulla nostra pelle potrebbe essere utilizzato anche puro, con l'unica avvertenza che non possiamo esporci a raggi solari o ai raggi ultravioletti, quindi al sole non vi esponete se l'avete usato topicamente per almeno 12 ore da quando l'avete utilizzato topicamente, perché può causare veramente, può bruciare la pelle, quindi attenzione a non fare quello. Per l'uso topico abbiamo detto che lo andiamo a mettere proprio sull'aria interessata, quindi è vero e proprio massaggio, perché andiamo a utilizzarlo sulla pelle, ok? Attenzione a non esporvi al sole. L'uso aromatico invece andiamo a diffonderlo al nostro diffusore ad ultrasoni, mi raccomando, oppure lo andiamo ad inalare direttamente dalla bottiglia. E il terzo modo di utilizzo per quest'olio essenziale di limone è l'uso interno. Io metto la mano sul fuoco sulla qualità do terra, non so che qualità avete a casa, però l'olio essenziale di limone do terra può essere utilizzato internamente. In che modo? Può essere aggiunto ad una bibita, può essere acqua, può essere un succo, un frullato e andremo ad utilizzarlo appunto in acqua, ok? Come faccio per esempio io al mattino tutti i giorni 1-2 gocce di olio essenziale di limone nella mia acqua a temperatura ambiente, a digiuno per andare a sfruttare tutte le sue proprietà depuranti, quindi depurative e disintossicanti, proprio perché va a ripulire tutti gli organi interni. L'olio di limone quindi possiede veramente tantissime proprietà, è un ottimo sgrassante, disinfettante, energizzante, antisettico, antibatterico ed è un ottimo rimedio naturale per andare a equilibrare la pressione arteriosa. Quindi come tutti gli oli essenziali, gli oli vanno ad equilibrare, vanno a creare l'omeostasi dove non c'è, per cui vanno a riportare un equilibrio e così anche l'olio essenziale di limone. Infatti se fate quei lavori tipo meccanico, comunque avete sempre rimani unte, nere, sporche, il sapone a questo punto non andrà a fare del tutto, non andrà a pulire bene la pelle, ma se aggiungete al vostro sapone un paio di gocce di oli essenziali di limone tutto il grasso andrà via, quindi è un grosso aiuto in questo caso se semplicemente aggiustate la vostra bicicletta di sporcanti di grasso. Per disinfettare invece è fantastico, per esempio io lo uso per pulire gli interni della mia cucina, quindi mobili all'interno degli mobili della cucina insieme all'aceto. Ovviamente l'aceto ha un odore molto forte, quindi miscelandolo con dell'olio essenziale di limone l'odore forte non c'è, però l'azione sgrassante e detergente dell'aceto e del limone lavorano in sinergia, quindi questo è un ottimo modo in cui poter utilizzare l'olio di limone. Ma oggi pensavo di fare in questo video di condividere con voi in modo dell'olio essenziale che ci può accompagnare in tutti i vari ambienti di casa, per esempio pensiamo alla nostra cucina, i taglieri non sapete quanti batteri possono albergare nella nostra cucina ma soprattutto nei taglieri, quindi attenzione a quando pulite i taglieri piuttosto utilizzate un po' di olio essenziale di limone che andrà a disinfettare e pulire bene. Potete anche aggiungere per esempio nel contenitore del detersivo della vostra lavastoviglie insieme al detersivo un paio o due o tre gocce di limone che andranno a detergere, pulire, disinfettare e smacchiare anche i vostri piatti, quindi questo potrebbe essere anche un ottimo modo per aiutarci con la lavastoviglie, quindi grazie all'olio essenziale di limone. Oppure per esempio pensate a tutte quelle spugne in cucina, maleodoranti, cosa potremmo fare? Lasciarle magari a bagno tutta la notte con detersivo e olio essenziale di limone, la mattina dopo le sciacquiamo, facciamo asciugare, dopodiché le utilizzeremo e profumeranno di pulito come anche tutta la cucina alla fine e ovviamente non dimentichiamo come cucina anche l'uso alimentare dell'olio essenziale di limone che possiamo fare. Per esempio ci può dare una carica di energia, se abbiamo bisogno di carica di energia all'improvviso potremmo appunto farlo in questo modo. Pettiamo una goccia di olio essenziale di limone in un po' d'acqua e mettiamo anche una goccia di olio essenziale di menta piperita. Insieme questi oli vengono utilizzati molto spesso, infatti troverete altri rimedi che voi vi suggerirò più avanti proprio sull'utilizzo insieme di questi due oli. Per cui andremo a utilizzare l'olio essenziale di limone e l'olio essenziale di menta per darci questa energia, una sferzata di energia di cui abbiamo bisogno. Ma non dimentichiamo per uso alimentare i nostri crema al limone, una nostra torta, biscotti, una crostata, quindi andrà a esaltare appunto questi dolci che facciamo grazie a queste poche gocce di doni della natura che sono i nostri oli amati, benati, oli essenziali. Frullati, per esempio gli smoothie, un bel frullato di frutte e verdure, ci aggiungiamo un po' di limone, fantastico, anzi ci aiuterà a dare il suo contributo per il nostro detox, se vogliamo disintossicarci. Oppure anche, abbiamo detto, per quanto riguarda l'uso alimentare, possiamo andare a usarlo spruzzandolo sulla frutta, per esempio, se vogliamo preparare la frutta per cena, ma ovviamente lo facciamo prima, per far sì che questo non si ossidi, possiamo andare a spruzzare proprio dell'olio essenziale di limone sulla frutta affettata, già fresca, cioè affettata e tenerla fresca fino a quando, diciamo, prima di servirla a tavola. Passiamo al soggiorno. Per soggiorno parliamo di divano in pelle, per esempio, anche quello potrebbe essere ravvivato con un po' di olio essenziale di limone che eviterà che la pelle si spacchi, quindi andrà a nutrire la pelle, quindi vera pelle, o piuttosto pensiamo all'argento, andrà a donare lucentezza al nostro argento, quali siano collane, anelli, bracciali, che hanno bisogno di un po' di attenzione, magari l'abbiamo lasciato lì per un po', andiamo ad utilizzare l'olio essenziale di limone proprio per andare a lucidare, ok? E funziona benissimo. Come anche, parlando di lucentezza, quei mobili magari antichi, se avete in legno, andrà a restituire quell'umidità che è andata persa nel legno, quindi penetrerà proprio nelle finiture in legno pregiato e andrà quindi a dare una mano. In questo modo metteremo dell'olio essenziale di limone con dell'olio d'oliva e creeremo una cera naturale, non tossica quindi, che possa appunto aiutare i nostri mobili antichi pregiati. Passiamo alle camere, alle camere pensiamo ai pavimenti, dobbiamo andare a lavare i pavimenti, pavimenti come pietra porosa o anche superficie in pietra porosa o granito, anche lì si annidano tantissimi germi e batteri, per cui andiamo a pulire in profondità grazie all'olio di limone che andremo ad aggiungere al nostro sapone o alla nostra acqua, se volete utilizzare anche solo acqua e lì veramente la stanza odorerà, profumerà di limoni freschi perché veramente tutti quei detergenti hanno quell'aroma un po' finta, diciamo così, invece veramente profumerà di veramente limoni freschi ed è fantastico. Andiamo nel bagno, nel bagno io penso alla lavatrice, ok? Chi di voi non ha mai dimenticato, dite la verità, chi di voi non ha mai dimenticato di il bucato bagnato nella lavatrice per alcune ore e poi dopo ci si ricorda quando si tira fuori veramente è maleodorante. Quindi cosa consiglio? Di andare a fare un risciacquo con 3-4 gocce di oli essenziali di limone, dopodiché però ricordate di togliere i stracci, cioè i vestiti dalla lavatrice, se no poi dovete rifare la stessa cosa. Oppure pensato a tanti prodotti chimici che purtroppo qualcuno di voi utilizza in cucina e in bagno, soprattutto parliamo del bagno in questo momento e quindi attenzione ai fumi tossici che provengono da questi prodotti per cui quello che suggerisco appunto è di usare piuttosto l'oli essenziali di limone con altri prodotti naturali, magari avremo modo più avanti di parlarne, quale utilizzare per pulire banni, cucina, la casa e andiamo ad evitare appunto di buttare via questa maschera antigas proprio perché avremo modo di respirare l'olio essenziale di limone che non ci farà male, anzi solo bene. Poi pensiamo allo spazzolino, sto pensando agli spazzolini nel bagno, spazzolini da denti che dovremo cambiare in realtà ogni tre mesi però magari aspettiamo che le setole si deformino e lì è il momento che appunto li vediamo anche un po' provati e potremo andare appunto a ravvivarli con dell'olio essenziale di limone e di menta anche qui, per cui lo mettiamo direttamente sullo spazzolino. Un'altra cosa che mi piace condividere è il fai-da-te, sapete che a me piace tanto il fai-da-te, quindi anche quando facciamo il fai-da-te, quindi per esempio possiamo vedere fare una crema per ammorbidire o lenire la pelle, per esempio dei piedi, in caso di duroni o calli o magari il nostro tallone magari provato, ecco tra qualche mese dovremmo cacciare fuori i piedi e quindi possiamo fare questo lavoro appunto prima di mettere i sandali o scarpe aperte, quindi anche quello per il nostro corpo fa benissimo. Pensate invece anche al giardino, il limone può essere utilizzato anche insieme alla menta, ecco che di nuovo sono una bella coppietta, vanno a eliminare, scacciare proprio, sono repellenti naturali, quindi va a scacciare tutti quei afidi, tutti quegli insetti fastidiosi che purtroppo si mangiano le foglie o le piante del nostro terrazzo, del nostro giardino, quindi un repellente naturale insieme alla menta piperita, ok? E eliminare tutte quelle cose appiccicaticce, per esempio se rientriamo in casa, magari sotto le scarpe abbiamo la resina degli albi, per esempio, poi piazziamo i nostri piedi sul tappeto, sul tappeto rimane la resina, la linfa attaccata lì, no? E l'olio essenziale di limone è fantastico, rideme, è fantastico contro tutto ciò che è appiccicaticcio, anche se avete a casa, non so, figli ossessionati con adesivi sui mobili, in casa, sui muri, eccetera, oppure sapete quei tatuaggi che poi vanno via con l'acqua, però sono sempre lì appiccicaticci, una goccia basta di olio essenziale di limone va a eliminare tutto ciò che è appiccicatoso, appiccicoso. Ok, quindi per finire, il corpo e la mente per il corpo, voglio darvi solo un suggerimento, una chicca per ciò che riguarda il corpo, se abbiamo detto prima che l'olio essenziale è fotosensibile, vuol dire che se ci esponiamo al sole può bruciare la pelle, ma se lo usiamo sui nostri capelli possiamo ricevere un bel riflesso chiaro ai nostri capelli, come se fosse una mesh naturale, senza andare a spendere sole dal parrucchiere e usare sostanze tossiche, quindi potete fare utilizzo dell'olio essenziale di limone, magari aggiunto al prodotto che utilizzate per la cura dei capelli, può essere un olio o un balsamo, qualcosa che mettete sui capelli, bagnate o asciutti, potete scegliere voi e poi esponetevi al sole, avrete delle mesh naturali senza nessun costo, solo con dell'olio essenziale di limone. Per la pelle invece voglio terminare con questo, per ciò che riguarda la pelle assolutamente dobbiamo ricordare che l'olio essenziale della mente, quindi a livello emozionale, l'olio di limone è conosciuto come l'olio della focalizzazione, quindi l'aroma di limone abbiamo detto che nutre il corpo, ma nutre anche la mente e aiuta la concentrazione, quindi si rivela un ottimo aiuto per quei bambini che hanno difficoltà a scuola, quindi ci insegna a focalizzarci su una cosa alla volta, va a disperdere la confusione e invece a donarci una mente chiara, quindi chiarezza alla nostra mente. Possiamo dire che è specifico per coloro che hanno disordini di apprendimento, adulti o bambini, perché c'è gente che non riesce a concentrarsi anche adulta sul lavoro o su uno studio particolare, quindi diciamo che il limone ispira anche ad avere una disposizione d'animo ottimista, ottimistica e allegra, quindi possiamo dire che veramente l'olio di limone come tutti gli altri agrumi va a elevare il nostro umore ed è fantastico. Possiamo concludere dicendo che ha tutte le carte in regola perché possa diventare un nostro migliore amico, quindi l'olio essenziale di limone, se volete provarlo contattatemi, commentate questo video, vi aspetto, fatemi sapere come voi lo utilizzate, se volete provare appunto un campione di olio essenziale di limone sarò contenta di poterlo condividere con voi, se volete anche iniziare un business con Doterra, perché no, vi invito ai miei appuntamenti fissi al venerdì alle 18, contattatemi per maggiori informazioni. Un abbraccio alla prossima, ciao ciao!